Buongiorno, benvenuti a questa rassegna stampa di oggi 12 settembre. La cosa più divertente e più spassosa di oggi, devo confessarvi, è la lettura del Corriere della Sera. Sembra di leggere oggi il giornale dei piccoli, ma no, forse no, qualcosa di più ironico del giornale dei piccoli, perché il titolo di prima pagina del Corriere della Sera oggi è Migranti così cambiamo più duri con i clandestini, penalità per i paesi che non li accolgono. Ma poi dopo ci sarà un pezzo ridicolo, ridicolo di Alesina e Giavazzi, che io Alesina pensavo fosse una persona seria, ma ve lo dico, continuo a pensarlo, ma quando leggi i pezzi di oggi in cui ci dice finalmente con questo governo abbiamo uno spiraglio, uno spiraglio! E poi vabbè, dopo ve lo commento quell'articolo, però la cosa straordinaria è che il Corriere della Sera, giornale unico al mondo, dice sui Migranti così cambiamo. Devo dire che poi basta leggere il giornale con l'ottimo Michele Sin che dice in base e contenti che vi fa capire esattamente come stanno le cose. Occorre leggere tutti gli altri giornali dello spettro italiano che vi spiegano come ieri in realtà Conte dalla Ursula non si sia portato a casa assolutamente nulla. Soltanto il Corriere della Sera sempre a pensare che abbiamo risolto il problema dei migranti perché lo stesso Conte di ieri, quello che votava il decreto di sicurezza, invece dice va dalla Ursula e riesce a convincerla di fare la ridistribuzione dei migranti in Europa, cosa a cui non crede nessuno. Ma non credono nessuno, non perché hanno, come possiamo dire, un pregiudizio nei confronti di Ursula, ma perché sanno cosa è successo nel passato. Dice che nel 2015 Michele Sin ci ha spiegato come c'era una promessa dell'Europa, una promessa dell'Europa esattamente uguale a questa, che avrebbero ridistribuito 40.000, 40.000 migranti che arrivavano in Italia e a Malta, non hanno distribuito praticamente nessuno e anche in quel caso c'era prevista una multa di 6.000 Euro per ogni migrante che non avessero accolto i paesi che dovevano ridistribuire. Secondo voi hanno dato delle multe a Austria, Ungheria, che ne so, tutti i bisegrati hanno dato una multa. Zero, zero multe, zero, zero, zero multe. E questi del Corriere della Sera oggi fanno finta che questa roba qui di oggi sia definitiva, ma è del tutto evidente quello che avverrà. Accoglieremo, faremo, apriremo le braccia larghe, come ha detto Zingaretti ieri da Vespa, saremo più umani e poi la ridistribuzione. Ciao core! Magari qualche cooperativa amica di Zingaretti potrà iniziare a fare il suo business o della sinistra o della destra pure che con queste cooperative ha campato a Roma. Migranti, l'Europa non ci sente, dice Repubblica, probabilmente il Corriere non capisce. E anche Nordi oggi ci spiega cosa è successo nell'ultimo consiglio di Helsinki in cui dicevano ridistribuiamo, ridistribuiamo, non se ne distribuirà mai nulla, intanto ce ne prendiamo noi. E le multe non si prendono mai, tranne il Corriere della Sera ci credono tutti. Ma d'altronde oggi sul Corriere della Sera, Alesina e Giavazzi, che qualcuno di voi, io ve li leggo apposta questi articoli perché così non perdete tempo, perché quando io leggo Alesina e Giavazzi che mi spiegano che oggi alla fine del tunnel c'è un barlume di luce, perché? Perché potrebbe essersi aperto un periodo relativamente positivo per il nostro paese. Alesina, ma tu hai capito che cosa ti fa scrivere Giavazzi? Alesina, ma vieni un po', vieni, torna da Harvard, dove stai, e vieni a seguire un po' le cose italiane. Ma tu hai capito che le infrastrutture di cui voi dite che sono necessarie nel vostro pezzo, chi era che le bloccava? Babbo Natale o il Movimento 5 Stelle? Avete capito chi ha fatto il reddito di cittadinanza? Babbo Natale o il Movimento 5 Stelle? Ma io dico, ma vieni in Italia, tornate un po' dalle vostre università, soprattutto Alesina, che io pensavo fosse un liberale doc, ma venite a vedere, ma veramente pensate che siano i cattivi con l'elmo leghisti? Io se avessi l'elmo sarei anche un po' meglio rispetto ai capelli che ho questa partita, è una roba da pazzo. Fantastico. Ovviamente sui giornali di regime oggi non si scrive nulla riguardo alla gara dei sottosegretari. Oggi Conte vorrebbe fare i sottosegretari, per me ha fatto il suo posto se l'è garantito, quindi riesce a essere bello solido, ma i sottosegretari non si riesce a fare, perché litigano come delle bestie la Castelli che vuole tornare. La 30, il ministro della difesa, quella che ci ha salvato da Salvini, vuol fare il sottosegretario di interni. La Lezzi, la donna che si è occupata del sud, non so che cosa, forse delle cazzate sulla xilella della TAP si è occupata, vuole ritornare a fare il sottosegretario, da ministro sottosegretario. Beh, è una cosa straordinaria per cui questo gioco delle poltrone oggi nessuno lo descrive come si dovrebbe, e cioè uno scontro per le poltrone. Forse il fatto oggi fa un pezzo sulle poltrone? No! L'altra grande straodia del fatto di oggi, ma che tutti i giornali citano, sono i voti di Stato di Salvini. 35 voti fatti, dice il Corriere della Sera, con la Ferrari dei cieli. E che te pensi, il Falcon di Epstein era un P18? Non era la Ferrari dei cieli, semmai era una Fiat molto bella da avercela dei cieli, una Mercedes, cioè una cagata. Ma invece il punto fondamentale è che è stata richiesta la sua assoluzione dal procuratore, cioè dell'accusa della Corte dei Conti, perché dice che non ha fatto spendere una lira in più allo Stato rispetto a organizzare gli stessi voli, proprio perché non erano a Ferrari dei cieli, con i voli pubblici e commerciali. Ma il punto fondamentale è che rimandano il fascicolo per abuso d'ufficio, perché dice che i voli non sono costati di più, ma sono illegittimi. Allora, io dico che questo è il Paese per cui un ministro degli interni che non fa spendere di più i contribuenti, che vola con gli aerei di Stato, che se stanno fermi costano, perché questa è la retorica del Movimento 5 Stelle che piace tanto al fatto quotidiano. Poi però, quando Nogarin, il sindaco di Livorno, viene sì rinviato a giudizio per la strage che lo accusano, aver anche lui in una certa misura contribuito a fare dell'alluvione di Livorno, va a finire in una notizio alla pagina 35 del giornale. Quindi non è ancora rinviato a giudizio Salvini, ma è il grande scandalo. Qual è il titolo del fatto? Voli di Stato. Ecco perché voleva pieni poteri, questo è il motivo del fatto. Salvini voleva pieni poteri per insabbiare i voli di Stato, di cui la Corte dei Conti dice che è innocente, secondo il giudizio di oggi. Non la Corte dei Conti, la procura, cioè l'accusa. Mentre invece lo vogliono rinviare per abuso d'ufficio, per l'utilizzo illegale di questa roba, illecito di questa roba. Nel frattempo Nogarin, amichetto loro, si è fatto eleggere in Europa per avere l'immunità parlamentare che come sindaco non aveva a Livorno. Tutto a posto. Sul fronte della politica vi segnalo due o tre cose. Renzi, secondo Zingaretti, sono quegli urli alla luna che poi alla fine danno un significato alla politica. Renzi potrebbe costituire dei gruppi autonomi e ne sarebbe molto preoccupato. E ce credo Zingaretti. Se costituisce gruppi autonomi state certi che questo governo balla, perché Renzi lo fa ballare. Nonostante l'abbia prima provato, poi lo farà ballare. Nel frattempo, e dice sarebbe uno scisma che io non vorrei, paragonandosi Zingaretti evidentemente o inconscevolmente al Papa che non vorrebbe l'uno scisma degli americani. Franceschini dice, e questo è molto più interessante, vogliamo fare le alleanze del PD col Movimento 5 Stelle anche nelle regioni italiane. Eccola là. Proporzionale da una parte, alleanze nelle regioni dove non ci sarà il proporzionale, c'è un sistema elettorale che funziona per fottere Salvini e, secondo me, se Salvini non capisce che si deve unire al centrodestra, caro Salvini, altro che voli di Stato. Questa è una vera grande sciocchezza. Se ne va via il primo deputato, dal Movimento di Salvini, via, perde il governo e se ne va via il deputato siciliano che era stato nel DC, nel PSI, che si chiama La Monte, complimenti, io direi meglio perderli che trovarli. Fico ci spiega al fatto che l'Europa verrà contagiato dalle idee del Movimento 5 Stelle sull'immigrazione e nessuno al fatto ride, giuro. Prima pagina, le nostre idee contamineranno l'Europa. Le nostre idee contamineranno l'Europa. Io direi che, caro Fico, le vostre idee sono state contaminate dall'Europa. Il Sole 24 Ore ha patteggiato, avrebbero fatto la richiesta di patteggiamento i vecchi amministratori Trego e Benedini e sarebbe stata pagata una multa da un milione, un milione, decisa dalla Consov, perché il Sole 24 Ore truccava i conti. Io la trovo una cosa straordinaria. Il giornale, diciamo, che ci fa sempre la morale su tutto, trucca i conti. Notizia di quattro righe, che trovate mi sembra sul Corriere della Sera e non solo. Nel frattempo, la verità ci spiega una cosa che se è vera è incredibile, cioè che la proposta della Confindustria sarebbe quella di mettere una tassa del 2% ai prelievi di contanti fatti col Bancomat renderebbe 3,4 miliardi di Euro. E questa è l'ideona per non usare il contante della Confindustria. Se così fosse, sarebbe da mettersi le mani nei capelli. Di economia ultime due cose, gran casino nell'Alitalia, continuo a dire la calenda in televisione, lo scrive oggi di mito sul messaggero perché il tesoro non ci starebbe a fare l'accordo così come era stato studiato con le ferrovie dello Stato. E infine una cosa gigantesca e sulla quale l'Italia dovrebbe riflettere è che la borsa di Hong Kong vorrebbe comprare la borsa di Londra, se non che la borsa di Londra si comprò la borsa italiana, compresa la borsa dei titoli di Stato e quindi in questo paese che pensa al sovranismo, pensa a tutte queste robe qua, ci troveremo i nostri titoli di Stato comprati dai cinesi. Ma non i titoli di Stato, che andrebbe anche bene, la piattaforma di infrastruttura di mercato con i quali si vendono. Io sapete, penso che non è importante la nazionalità dei mezzi di produzione, però forse qualche regola in più su un mercato così delicato e qualche controllo in più dell'infrastruttura di rete forse converrebbe averla. Direi che per oggi è tutto, io vi rimando al pezzo di Gervasoni, tra poco lo troverete sul sito nicolaporro.it e sull'inutazione civica che non parte mai, ne parlano oggi i giornali, ne parte anche il mio sito. Ciao!